Tratto dalla Scuola del Racconto a cura di Guido Conti, I Contemporanei del Futuro. Perché leggere i classici? Ha riflettuto molto sull'argomento Giuseppe Pontigia, uno straordinario scrittore, nonché uno dei maggiori critici della seconda metà del Novecento, autore fra l'altro di un romanzo di grande successo come Nati due volte. Pontigia parla di Contemporanei del Futuro, usando uno simoro apparente che in realtà descrive con esattezza la peculiarità del fare letteratura. Essa annulla il tempo proprio nel momento in cui pone il racconto lontano, non solo nel passato, ma soprattutto nel futuro, consegnandolo alla lettura delle generazioni che verranno. Leggere ha il potere di rendere attuale ciò che non lo è, di ridare vita a un testo che viene a noi da un altro tempo. È come esplorare un mondo dimenticato dallo scorrere della storia. Il tema affrontato in questa ottica è complesso e rimanda anche ad aspetti magici e sciamanici. Colui che legge e interroga un testo ha il potere di riportare in vita voci altrimenti si apre il volume e gli occhi che corrono sulla pagina risuscitano il percorso di senso costruito da qualcuno che è scomparso dieci, cento, mille anni fa. Le nostre due voci coincidono senza sovrapporsi. Ognuna conserva la propria identità. Più un lettore è bravo e più è vivido l'effetto e questo vale in particolare per l'attore che recita il testo prestandogli bocca e corpo. Leggere ha sempre aspetti che vanno oltre la semplice esperienza di decodifica del testo scritto e porta verso dimensioni non usuali creando un'esperienza che è dentro ma anche fuori dal tempo. Se è vero che i classici sono i contemporanei del futuro e che hanno sempre qualcosa da raccontare non solo a noi ma anche alle generazioni che verranno bisogna dunque pensare anche a loro quando si scrive. Quanti libri sopravviveranno a una stagione letteraria, alla moda del momento, anche dopo un grande successo? Carlo Saffioti, volontario LAV di Follonica. Grazie. Poi devi dire che questa roba la mandi per il 25 che è la giornata... Questo file viene inviato in occasione del 25 giugno, giornata LAV. Grazie. Grazie a tutti.